Alessandro, dai! Ogni volta che signano in giocato in mezzo. Fatto foto, Gaber. Immagino che siano venute abbastanza fittoreschi. No? La pioggia! Se ti rivolgi malamente ai tuoi compagni di squadra, Gaber, questo è una municchione. Si, però questo non è... Se devi proprio insultarlo... Eh, prima è successo... Prima è successo. Prima cosa aveva detto? Sei incapace come un forchetto. Ah, era Mauro sulla madda. Si, si, si. Sì, si. No, 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 no. Si, si, si. Cosa va? Si. No, 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 no. Ok